benvenuti all'interno di un'altra puntata di javascript in pillole una breve serie in cui vado a spiegare alcuni quei concetti che sono alla base chiamiamola così della programmazione moderna che comunque si incontrano con molta facilità soprattutto quando si viene contatto con quelli che sono i principali framework per javascript o comunque le librerie come nel caso di react questa serie prende un po forma nasce dall'etigenza di avere un posto dove tutti coloro che sono davvero dei principianti e che appunto si approcciano a quelli che sono i framework o le librerie possono trovare una spiegazione di questi concetti che spesso come fatti nel mio corso vengono un po dati per scontato perché praticamente di default ecco oggi parleremo di come ottenere dei valori unici per tanti questi non sarà una puntata diciamo nuova ma sarà un qualcosa di comune che avrete già fatto molte volte ed è quello di creare dei set che cos'è un set è un set è quello che forse per chi lavora con python lavorato con python può essere definito un insieme ovvero un array diciamo che non permette la ripetizione di valori identici questo è molto utile magari quando otteniamo sempre con dalle nostre amiche pia e magari delle risposte in cui abbiamo quella che il valore di categoria e quindi abbiamo bisogno di fare una selezione molto semplice in modo che non abbiamo le categorie che che si ripetano e quindi se io appunto andassi ad avere const categorie uguale in cui prendo l'elemento e vado a ritornare è il dot categoria adesso andassi a console dot luccare il nostro categorie come vedete otterrei un array contenente tutti i valori di tipo categoria e questo ovviamente non è che sia così interessante per risolvere questo problema posso dire che categoria è uguale a new set e vado a inserire l'interno del set tutto il mio codice precedente in questo momento come vedete categoria altro non è che un un set che si dichiara appunto come un oggetto se volessi essere più preciso potrei dire semplicemente per avere di nuovo un array unico che categoria altro non è che un array in cui vado a spreddare il mio set adesso ottengo come vedete un array con i valori unici perché il set si dichiara come l'oggetto non vogliamo avere a tutti gli effetti un set ma un nuovo array che possiamo andare a iterare nuovamente eliminando quello che la carne ad esempio oppure possiamo andare ad aggiungere magari in questo caso il valore o la quindi semplicemente c'è un po e poi il nostro settimana o il pasta pesce e carne molto molto utile quando abbiamo appunto bisogno di ottenere tutti quelli che sono i singoli valori a partire magari da una gigantesca risposta che ci arriva da da un api e con questo la nostra brevissima pillola si si conclude so che per tanti questo è un elemento conosciuto e sicuramente niente di di così incredibile però penso che per chi sia veramente alle prime armi venire a conoscenza di quello che è un set e della sua utilità di quanto sia importante possa essere molto importante molto aiuto perché andare a eliminare manualmente questi valori è un'operazione sicuramente molto complicata